Buongiorno a tutti e benvenuti, una sola piccola informazione prima di iniziare, come avrete già avuto modo di sapere la partita di Coppa dei quarti di finale è stata fissata per martedì prossimo alle ore 17, per voi le modalità di accesso saranno le stesse quindi sarà necessario naturalmente accreditarsi tramite mail da scrivere a media.fi. Prego, vai Nicola, arrivo a Lusanna, in caso di vittoria si arriverà per i 40 punti, come oggi che lei fa la terza settimana, è questo il foro che può raggiungere finalmente quella quota per poi correre avanti? Sì, questo è sicuramente l'obiettivo di vincere in caso con Lusanna che sappiamo bene ci ha fatto soffrire moltissimo la partita precedente dove abbiamo perso 2-0, dove avevamo ben poco da dire e che Lusanna ha meritato di vincere ampiamente, quindi cercheremo anche lì di dimostrare che siamo più forti di quello che è stata quella partita lì, avendola studiata molto bene e cercando di metterli poi anche in difficoltà e cercando naturalmente di vincerla, che è la cosa più importante, al di là del gioco naturalmente. Qualche indicazione della partita di Marconi di che può essere utile per il potente del campionato? Sì, non è stata una partita diciamo bella da vedere, nel senso che c'è stato chissà cosa da vedere perché era importante solo passare il turno, l'abbiamo fatto con concentrazione, con serietà e il risultato poi alla fine è stato un 3-0, non abbiamo preso gol e questo è stato anche importante, Osigui ha fatto quello che doveva fare in porta, quindi ha fatto molto bene, Lungoi ha fatto tre gol che è sempre importante per un attaccante segnare gol e poi sì, gli altri hanno fatto la loro partita senza strafare ecco, anche perché di fronte c'è una squadra che non è che ci ha messo veramente proprio in difficoltà, al di là che per due sbavature in difesa che hanno permesso a loro di essere pericolosi. Dal ritorno al Super League di Lugano, nessuno era mai arrivato a 27 partite con lo stesso numero di punti che avete presso, che sentimento c'è di fronte a questo risultato? Perché per uno siete fieri e gogliosi di questo, ma d'altro canto la tassifica è talmente qualcosa che forse per il momento non si riesce ancora a realizzarla totalmente? Sì, è così, le statistiche sì fanno parte del gioco, però con le statistiche non mince niente, è importante guardare in avanti partita dopo partita e pensare veramente solo a questa che ci aspetta con l'Osanna, che sarà una partita difficile perché loro pressano molto alti, è una squadra molto giovane, ha tanta corsa, quindi dovremo correre al minimo quanto loro e poi dopo essere bravi a quando abbiamo palla di non metterci sotto pressione, di non farci mettere sotto pressione e cercare di fare il nostro gioco, quindi anche noi dovremo essere molto accorti, molto compatti, non lasciare loro spazi importanti dove loro poi quando hanno palla sanno gestire molto bene la palla e sono propensi ad andare sempre in avanti, quindi hanno i giocatori molto validi davanti, rapidi e quindi non dovremo lasciare loro tanti spazi per inserirsi in quei spazi lì. Quando avete giocato contro l'Osanna era fatto in un periodo un po' difficile, pensa che adesso che le dinamiche sono un po' cambiate, cambia un po' l'approccio della partita, sarebbe anche meno difficile affrontare? Beh diciamo che stiamo bene, sicuramente quella partita con l'Osanna avevamo 5-6 titolari fuori, quindi eravamo in difficoltà per qualche acciacco, oggi abbiamo quasi la rosa al completo, a parte Os e Guerrero che mancano all'appello, gli altri sono tutti disponibili, quindi c'è ancora un allenamento da fare, però sicuramente il contesto è diverso, abbiamo gente importante in campo, con tanta esperienza come Maric, Keskes Desso è anche di noi presente, quindi abbiamo sicuramente degli atu importanti che sicuramente al di là del fatto che lì eravamo 5-6 in meno di questi titolari oggi ci sono. Sì, giusto, però lì a centrocampo abbiamo abbastanza giocatori per poterlo rimpiazziare, grazie. Quindi Ciovillo è di nuovo al cento per cento? Al cento per cento no, sento ancora un piccolo fastidio, però vediamo anche su questo allenamento se effettivamente Ciovillo possa essere dal partito o meno. Per sostituire proprio il custodio, a Montero hanno giocato Vidotti e Macek, penso forse Macek è stato quello che ha convinto di più, come vado più in forza questa sessione dopo tanto di Macek? Io credo che di Macek, chiedo di più di quello che ho visto mercoledì anche di Guidotti, credo che potevano sicuramente fare meglio, nel senso che molto più possesso, far girare molto più la palla, credo che mi aspettavo un attimino qualcosa in più, ma non solo di loro, ci sono altri giocatori che neanche erano proprio in un giorno molto molto buono. Però per me era importante che passassimo il turno senza problemi e questo l'abbiamo fatto, è questa la cosa più importante. La Coppa è anche una cosa più importante, però come ho detto vediamo partita dopo partita cercando di mettere in campo la squadra migliore o la squadra più propensa di poter andare a vincere, questa è la cosa per me fondamentale. Poi dopo la partita di Lausanna faremo le valutazioni e ci renderemo conto di chi portare poi in campo contro Lucerna. Però mettiamo il focus veramente solo sulla partita di Lausanna di domani, che arrivare a 40 punti sarebbe una gran cosa e ci sarà da lavorare tanto per arrivare a questo bottino. Ma è successo negli ultimi 20 minuti, dopo che avevamo segnato il gol, dopo i cambi lungo il match e Gernt abbiamo un attimino perso questa fluidità di tenere più palla, di far girare palla e correre l'avversario, che abbiamo fatto molto bene durante i 70 primi minuti. quindi ci sono delle situazioni dove si dovrà fare questo e ci saranno altri momenti dove dovremmo essere bravi sulle recupero palla di avere degli inserimenti rapidi in avanti perché è lì che troveremo i spazi importanti per poter andare in gol. Ancora veloce vinta una domanda, si pensa evidentemente a facciamo la pratica, però con l'eliminazione del Rion Bois la Coppa diventa per tutte le squadre ancora più interessante? Sì, era già molto importante prima di questa gara contro San Gallo che è uscito. Oggi come oggi sappiamo che le squadre che sono rimaste si equivalgono. Quindi ogni squadra che è ancora in lotta, a parte adesso c'è ancora il Krins che c'è, che gioca con Servet, c'è la Rau che è anche dentro in semifinale, quindi anche la Rau ha fatto delle ottime gare, ha vinto 3-0 con il Winterthur che non è facile, il Winterthur che è andato a buttare fuori il Basilea. Quindi la Coppa è sempre un aspetto difficile da interpretare, è una partita a secco, quindi la forma del giorno diventa fondamentale in quel momento lì. Avere tutti a disposizione per quella partita può essere anche un attuo importante e poi ci vuole un attimino quel pizzico di fortuna che non nuoce mai. però ce la possiamo giocare con qualsiasi squadra che è rimasta ancora in vetta in lotta per la conquista della Coppa. Però pensiamo prima alla partita di Lausanna e poi ci butteremo poi a pensare a quello del Lucerna. Posto? Grazie. Grazie a voi. Grazie. 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 Grazie.